Nuovo prezioso ritrovamento a Segesta, seppellito per secoli da pochi centimetri di terra e dalla vegetazione, nell'area dell'Acropoli Sud è tornato alla luce un altare, presumibilmente di epoca ellenistica. Questo eccezionale reperto rinvenuto conferma l'inestimabile valore storico e artistico che i siti archeologici rappresentano per il nostro territorio, ha affermato il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Testimonianza, ha aggiunto il governatore, di un passato glorioso ancora da scoprire e interpretare. Migliorare la fruizione di questi luoghi significa permettere a turisti e visitatori di vivere esperienze culturali immersive e di godere di un patrimonio unico. Il Parco archeologico di Segesta non finisce mai di stupirci, ha invece dichiarato l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Gli scavi, ha aggiunto, continuano a riportare alla luce resti sempre diversi che aggiungono nuove prospettive e chiavi di lettura a un sito dove sono stratificate molteplici civiltà e la conferma di un impegno profuso per restituire valore aggiunto a un luogo affascinante, attrazione per i turisti di ogni provenienza geografica. La scoperta è avvenuta nei pressi dell'edificio denominato Casa del Navarca, in una zona finora poco esplorata, nell'ambito del progetto di manutenzione e fruizioni dei fronti di scavo, proprio mentre alcuni operai ripulivano il terreno da sterpaglie e vegetazione spontanea. Entrambi i reperti sono a forma di tronco piramidale in perfetto stato di conservazione e dovrebbero costituire un altare per il culto familiare e un supporto per una scultura o un elemento di finitura.